Ciao da Cagia Rossa, buongiorno come state? Allora è un video informativo, è un video che ho bisogno un po' del vostro aiuto Oggi pomeriggio farò un video, dovrebbe uscire nel tardo pomeriggio, roba del genere È un video bomba, per me è un video bomba Non riguarda Catanzaro, sono sincero, non riguarda Catanzaro Però sotto un certo aspetto riguarderà il Catanzaro Parliamo di gioco di calcio, ok? Quindi c'è un po' di mezzo a tutte queste cose Però avrò bisogno di vostro aiuto, di condivisione Spero di fare un gran bel lavoro, di essere il più preciso possibile, anche se non sono allenatore Ma vorrei veramente spaccare questa volta ed essere molto divulgato Il video dovrebbe andare virale, è una mia cosa su cui ci tengo Vedrò, intanto oggi lo lavoro, non posso per benino Cerco di andare nel dettaglio Vediamo, poi se vi piacerà supportatelo e fareste un piacere Se vedete, vi rendete conto che non è all'altezza Lasciatelo stare lì con me Non voglio che sia una cosa forzata, deve venire naturale Però spero di fare veramente un bel lavoro E credo che verrà un bel lavoro Vi aggiungo comunque Vedrete oggi comunque il video